Musica Cari amiche, cari amici di Rosani TV, eccoci qua, lunedì sera, c'è capo Obiettivo Salute, terza stagione, e questa sera avremo davvero un ospite d'eccezione, siamo qui nel salotto di Fisioradi Medical Center, un ospite d'eccezione perché? Perché è la prima volta che la intervistiamo, abbiamo così occasione di conoscere la dottoressa Erika Maffei. Dottoressa, buonasera. Buonasera. La dottoressa Erika Maffei è radiologa, esperta in TAC e risonanza magnetica del cuore, poi ci addentreremo nella spiegazione di queste due pratiche così interessanti e importanti per conoscere il nostro organismo, ma prima di tutto ciò ci piaceva conoscere la dottoressa Erika Maffei. Perché? Perché oltretutto ha avuto un lungo percorso professionale che è partita dall'Emilia Romagna e guarda caso è tornato nella sua Sant'Angelo in Vado che è il suo paese nel quale vive tuttora, dottoressa. È vero, è vero. Sì, io sono originaria dell'entroterra che amo molto, infatti poi sono tornata, diciamo, a casa dopo... Me lo faccio a dire, le piace vincere faccio. Molto molto bello il nostro entroterra, esatto. Veramente, e lo confermo dopo aver, diciamo, affrontato varie realtà, perché ho lavorato in grandi ospedali pubblici come quelli dell'Emilia Romagna, quindi con 1500 posti letto, ho lavorato nella sanità privata del Veneto, ho avuto un'esperienza all'estero, in Canada, a Montreal, nello specifico, dopo la quale comunque ho sentito la necessità di tornare e di tornare nelle Marche per iniziare a ricomporre questo puzzle e a portare a casa, a beneficio del territorio, le cose che avevo imparato. Un'esperienza che mi piaceva sottolineare era quella di Pisa, di cui aveva accennato al CNR, vero? Il CNR è stata... l'esperienza forse molla per il rientro definitivo, perché a Pisa ho lavorato in un ambiente prettamente cardiologico, ho avuto la possibilità di vedere la tecnologia di frontiera, di cui parleremo questa sera, che è la TAC, in quel caso a conteggio di fotoni, e ho veramente tratto l'ispirazione che questa metodica entrerà sempre più nelle nostre vite e dall'incontro poi fortunato con Maurizio Radi, ho preso spunto per portarla come esame di routine anche nel nostro territorio. Quindi dal CNR ho preso un ultimo pezzo, spero, e stiamo cercando adesso di concretizzarlo qui. Quindi una vera e propria eccellenza, importantissima. Partiamo proprio da quello che è il cuore della sua specializzazione, della sua professionalità, al di là del fatto che sia radiologa, l'apparato cardiovascolare. Cominciamo a dare una definizione per far comprendere di cosa si tratta. Ok, la parte della radiologia di cui mi occupo è quella connessa al cuore e a tutti i vasi arteriosi che vengono irrorati tramite il cuore. È una diagnostica di per sé molto complessa perché dobbiamo andare a visualizzare, per quel che riguarda il cuore, dei piccoli vasellini, immaginiamo, di 2-3 mm che si muovono in sincrono con il battito cardiaco, senza ovviamente dover far arrestare il cuore e senza essere invasivi nei confronti dei pazienti. Quindi semplicemente con un ago inserito in una vena periferica, senza bisogno di ricovero. Lei pensi che fino all'avvento della tecnologia multistrato, di cui io ho potuto vedere lo sviluppo a partire dal 2005, l'unico modo per vedere davvero le coronarie era la coronarografia che presuppone un ricovero, che è invasiva, per quanto poco è invasiva perché c'è un catetere che viene portato all'imbocco di questi piccoli vasellini. Adesso vale per le coronarie, vale per le arterie degli arti inferiori, per le carotidi, per le piccole arteriole cerebrali, possiamo visualizzare questi vasi in modo non invasivo e estremamente accurato per studiarne la patologia che può essere la neurisma ma che può essere l'aterosclerosi, nelle due forme diciamo principali. Quindi una tecnologia davvero molto avanzata, peraltro, dicevamo anche prima, abbiamo fatto la battuta, una tecnologia per la quale però serve assolutamente il pilota. Qui è l'uomo che controlla la tecnologia e ne prende i suoi lati migliori. Esatto, perché la tecnologia, che è un tassello fondamentale, indispensabile, da sola non dà le risposte o addirittura può dare delle risposte fuorvianti. È il pilota, è l'integrazione clinica tra la macchina e il paziente, che è data dal medico, dal radiologo, che rende queste informazioni non solo fruibili ma fondamentali. Al fine, in questo caso specifico, adesso mi riferisco alla TAC, poi entreremo nel dettaglio, di arrivare a una terapia individualizzata del singolo paziente, non della malattia come descritta sul libro, ma del singolo paziente. Sì, puntualizzavo una cosa che ho detto, quando dico l'uomo intendo l'uomo come essere vivente, chiaramente non come genere perché abbiamo di fronte a noi una dottoressa che anzi è bravissima come donna a fare quello che fa, quindi è chiaramente, ci intendevo a sottolinearlo perché di questi tempi è sempre bene farla, questa puntualizzazione. Quindi detto questo, dottoressa, di cosa si tratta? Quando noi parliamo di TAC e risonanza magnetica, in questo specifico, facciamo capire ai nostri telespettatori esattamente in cosa consistono queste due tecnologie. Allora, partiamo dalla TAC. Allora, le apparecchiature TAC rappresentano l'evoluzione del tubo a raggi X nella sua forma veramente più completa, che ci dà una visualizzazione degli organi interni, quindi non più semplicemente in toni di bianco e nero, quindi come quando si fa la lastra si va a vedere l'osso. In realtà la TAC aggiunge tutte le sfumature di grigio che ci sono all'interno del nostro organismo e ci permette di visualizzare in modo non invasivo le immagini, il paziente steso su un lettino, in un'apnea che può durare 12 secondi, andiamo a vedere tutto quello che c'è tra il collo e l'inguine, quindi la pelvi, andiamo a vedere i polmoni, andiamo a vedere fegato, milza, pancreas, in modo totalmente non invasivo con l'utilizzo dei raggi X. La tecnologia si è molto evoluta e quindi siamo partiti da macchine in cui questa apnea era di 40 secondi a macchine in cui l'apnea è di un secondo per poter andare a visualizzare lo stesso campo di vista e siamo passati da apparecchiature in cui le strutture che potevamo distinguere erano differenti di un centimetro, quindi la risoluzione spaziale, l'accuratezza nel dettaglio era di un centimetro più, allo stato attuale in cui è 0,2 mm e in cui il dettaglio risolvibile, quindi distinguibile dalla macchina è submillimetrico, cioè di 100 micron, tutto in modo non invasivo. E quando l'ha definito apnea cosa significa? Cioè il momento in cui si deve trattenere il respiro, giusto? Per poter fare l'esame in maniera efficace. Esatto, quando noi facciamo un esame andiamo in quello che è il nostro cuore, facciamo sdraiare il paziente sul lettino in modo molto confortevole, poi mettiamo sul torace degli elettrodi come per fare un elettrocardiogramma, la macchina legge questo elettrocardiogramma, le diamo tempo per sincronizzarsi con questo battito, istruiamo il paziente su come respirare, quindi gli insegniamo lo specifico tipo di apnea che permette il buon svolgimento dell'esame e poi partiamo con il nostro esame, quindi chiediamo al paziente di trattenere il respiro e mentre a polmoni pieni il paziente è in apnea, quindi fermo senza respirare, la macchina fotografa il cuore. Questo dico sempre, fotografa, quindi non vi muovete. Esatto, state fermi. State fermi. Come quando si fanno le foto e magari dice anche sorrida, no? Anche ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare, ci potrebbe stare. Si è più rilassati. Risonanza magnetica invece? Finisco un ultimo dettaglio. Ovviamente esistono due forme di TAC per tutti i distretti in particolare, per questo senza contrasto che ci dà una visione più di base. Cioè quindi parliamo di metodo di contrasto. Mezzo di contrasto. Che consiste nell'iniettare un farmaco che viene poi escreto, inalterato, quindi non è un farmaco che modifica qualcosa dell'organismo, ma serve ad aggiungere un tono di colore a ciò che abbiamo dentro, perché va selettivamente nei vasi. Quindi vediamo questi vasi brillanti e ci dà la risoluzione di contrasto. Andiamo a vedere come sono fatti, se ci sono ostacoli dentro, attorno, e come poi vanno a irrorare gli organi. Quindi questa è poi la ricchezza della metodica. E mezzo di contrasto che si può applicare anche nella risonanza magnetica. Esatto. Che invece è? Che invece è una metodica basata su un principio diverso, che è l'applicazione di un campo magnetico totalmente non invasivo, tant'è che anche donne in stato di gravidanza, in caso di necessità, possono fare, mentre le radiazioni ionizzanti hanno alcune limitazioni di applicazione, e che però con tempi più lunghi ci permette di andare a visualizzare, nello specifico, il tessuto miocardico, così come il tessuto cerebrale o le articolazioni, con proprio queste radiofrequenze che vanno a colpire le strutture, sulla base di come queste vengono, diciamo, poi captate, viene elaborata l'immagine derivante. In maniera molto semplificata si associa la risonanza magnetica alla scannerizzazione. È coerente oppure no questa idea? Parzialmente, parzialmente. Probabilmente perché la risonanza magnetica è rumorosa, quindi l'emissione di queste onde sonore ha generato l'idea dello scanner, che come vediamo nei film fa un rumore, mentre invece l'attacca è molto più silenziosa. Peraltro sono questi rumori che sono quasi ipnotici, che entrano poi nella testa del paziente, che addirittura potrebbe anche rilassarsi. Sembra una contraddizione, ma così è. No, non è un controsenso, perché in realtà, avendola provata come molti di noi in prima persona, poi uno si rilassa, ha le cuffie, ha le orecchie e basta. Segui questi suoni e le eventuali istruzioni del tecnico per respirare adeguatamente. Esatto, peraltro suoni che anche sono in grado di identificare la durata dell'esame, perché ci si rende conto di quando finisce. Esatto, esatto. Il cambio di sequenza, il tecnico sta cambiando sequenza e ci si avvicina alla fine dell'esame. E ci si avvicina alla fine. Allora, ma in generale, quali sono i campi di applicazione? Cioè, quando una persona, un paziente, si dovrebbe fare delle domande su se stesso e dire forse sarebbe meglio ricorrere a queste tecnologie per capire di più di me stesso, soprattutto dal punto di vista cardiovascolare. Fortunatamente le nuove tecnologie ci permettono di ampliare molto il numero di pazienti che possono trarre beneficio, perché l'applicazione che mi viene in mente subito è proprio quella della stratificazione del rischio vascolare. Quando noi andiamo dal nostro medico di base o dal cardiologo di riferimento, ci colloca in una classe di rischio, vale a dire valuta dei nostri parametri la pressione, famigerato, colesterolo, la sedentarietà, il fumo, la familiarità e ci assegna una percentuale di rischio, una classe di rischio. Questa classe di rischio è basata sull'epidemiologia, cioè su quello che accade ai nostri coetanei, ai nostri pari grado per età e genere, nella popolazione generale. Quindi è una stima, diciamo. La TAC permette di fare un passo in più, ha un valore aggiunto che nulla di questo ha, che è andare a vedere direttamente il nostro eventuale carico di malattie, di malattia sulle coronarie. Quindi andiamo a visualizzare direttamente, in modo, diciamo, più semplice, con il cosiddetto calcium score, che è l'esame senza mezzo di contrasto. Questo ci permette di stimare la quota di calcio e quindi di aterosclerosi che si è depositato sui vasi coronarici e quindi permette di avere una terapia più mirata. Se vogliamo essere raffinati, cosa che serve molte volte, andiamo ad aggiungere il mezzo di contrasto per vedere se l'aterosclerosi ha un impatto limitante e quanto è davvero estesa poi sul flusso del sangue. Quindi immaginiamo le coronarie portano il sangue al muscolo cardiaco. Ecco, questo è il contesto. Questa è la prima grande applicazione. Quindi se uno ha un dolore toracico che non riesce ad essere inquadrato, se uno ha un'alterazione di tutti i fattori di rischio che abbiamo detto o una familiarità importante. Ecco, tutti questi sono pazienti in cui è fondamentale andare a vedere l'anatomia coronarica per poi guidare i cardiologi tramite i test funzionali, tramite eventuali scelte di intervento, tramite scelte terapeutiche a portarci avanti nella nostra qualità di vita, nel nostro benessere. Quindi per concludere, dottoressa, molto spesso noi associamo gli esami radiografici a questioni ortopediche, a questioni di vario tipo, mentre invece sottovalutiamo l'aspetto che riguarda l'apparato cardiovascolare. Invece bisogna focalizzarsi molto su questo, anche perché non dimentichiamoci che è il cuore che ci mantiene in vita. Sì, sì, assolutamente. Quindi possiamo iniziare a fare questa associazione al fine di avere una stratificazione del rischio, al fine di gestire in modo personalizzato la terapia e quindi poi di vivere meglio, vivere più sani, proprio perché siamo andati a puntare non con un cannone, ma in modo molto preciso il nostro problema. Grazie, dottoressa, anche perché ci ha dato modo davvero di affrontare tutte le particolarità della medicina moderna. Tecnologia, multidisciplinarità, quindi intervento di medici che in equip risolvono i problemi e tecnologia proprio mirata alla personalizzazione della cura. La cura deve essere indirizzata persona per persona e questo è il vero grande plus della medicina moderna. Dottoressa, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie anche a voi per averti seguito questo lunedì. L'appuntamento alla settimana prossima. Continuate a restare su Rossini TV. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.